Buon sabato a tutti ragazzi, allora aspettando i convocati che arriveranno dopo la rifinitura di stamattina probabilmente adesso parliamo un attimo di questa cosa di Chiellini perché ieri appunto si è fatto male quando ho caricato appunto il video ironico ovviamente e allora io intanto chi giocherà oggi parliamo un attimo di Chiellini ma non solo di Chiellini parliamo anche un attimo del centrocampo che poi comunque dopo le 10 lunedì farò il video ovviamente del mercato della Juventus dando il mio voto e sapete benissimo che non sono per niente contento, in questi giorni per me non cambierà nulla né in entrata né in uscita mangio che ci ha rifiutato anche un'offerta, una max offerta da parte del Qatar quindi non è solo una questione dei soldi evidentemente ma è una questione proprio che il giocatore vuole rompere i coglioni ed è veramente un granchio attaccato ai coglioni insomma quindi va bene, allora parliamo un attimo inizialmente di questo infortunio di Chiellini c'è chi mi ha detto sì ma non è come gli altri infortuni, legamenti, sfortuna io sarei d'accordo qualora fosse capitato a qualcun altro se è un giocatore che è molto fragile di suo, ad esempio, faccio un esempio Giuseppe Rossi ha avuto tanti infortuni e legamenti quindi era debole, era fragile sui legamenti ma ha avuto anche infortuni muscolari sulla stessa gamba e sulle stesse gambe, praticamente ne ha due ovviamente e sulle quali appunto ha avuto infortuni e legamenti perché quando tu sei soggetto a tanti infortuni puoi avere anche infortuni d'altro tipo sulla stessa gamba o su entrambi le gambe insomma perché? Perché alla fine se uno appunto è fragile è fragile su tutta la parte che poi viene coinvolta quindi soprattutto se sono infortuni muscolari o appunto di articolazioni perché di fatto il legamento è l'articolazione del ginocchio quindi diciamo che purtroppo è una questione che appunto era prevedibile io a giugno speravo non in un infortunio di Chiellini però speravo sicuramente avesse meno infortuni e non così gravi perché avevo pronosticato un delete che avrebbe giocato di più al posto di Chiellini piuttosto che di Bonucci per via degli infortuni che ha Chiellini questo infortunio per me può essere la pietra tombale sulla carriera di Chiellini perché poi qualora rientrasse rientrerà sicuramente in maniera non da titolare ecco e da capitano fisso secondo me questo infortunio qui non era prevedibile l'infortunio dei legamenti però sta di fatto che se io, io, semplice tifoso c'è chi dice voi che siete tifosi, non lavorate, indiligenze e quant'altro che capite? io penso, chi mi segue lo sa benissimo in questi 5 anni ho azzeccato moltissime cose e ne ho sbagliate pochissime quindi anche per questo vengo seguito evidentemente e non è per tirarmela, anzi io sono veramente dispiaciuto per Giorgio e gli faccio i migliori auguri di pronta guarigione assolutamente perché comunque è il nostro capitano perché comunque è un giocatore che a me difensivamente non è che faccia impazzire nel senso che bravo sulla marcatura, meno bravo tecnicamente e meno bravo anche secondo me in velocità quando viene puntato in velocità fa molta fatica però è un grande professionista è un grande giocatore sotto il profilo appunto del fisico si fa sentire, è un difensore molto difficile da affrontare lo dicono, l'hanno detto i migliori attaccanti di fatto e quindi sotto questo aspetto assolutamente nulla da dire però sta di fatto che ragazzi io qua vedo dal 2008-2009 quindi non è solo una questione recente ma una questione che insomma è stata prolungata negli anni 2008-2009 significa praticamente 10 anni fa 10 anni fa aveva 25 anni, non era vecchio dal 2008-2009 sono iniziati i problemi cronici ha avuto ben 30 infortuni dal 2008-2009 fino all'infortunio di ieri 27 muscolari, 1, vabbè, 2 ferite normali, tranquille e una per quanto riguarda appunto l'articolazione del ginocchio quindi i legamenti, cioè ieri sono tanti 30 infortuni in 10 anni praticamente sono tanti ragazzi, cioè non si può dire il contrario sono veramente veramente tanti perché poi dicono sì ma io ripeto anche lo stesso Giuseppe Rossi una volta che si è infortunato due volte che si è infortunato poi ha avuto problemi cronici insomma o sullo stesso punto comunque su entrambe le gambe sullo stesso fisico insomma perché comunque poi insomma coinvolge un po' tutto anche l'aspetto fisico perché comunque ogni volta che ti fai male poi devi stare fermo devi recuperare e poi un giocatore come Achiellini che ha un fisico abbastanza grosso ci vuole del tempo ci vuole più tempo per recuperare ci vuole più tempo per entrare in condizione e quindi niente questo è purtroppo anche per questo io avrei dato che Achiellini aveva la sua età io l'avrei gestito di maniera diversa cioè avrei fatto partire subito titolare uno tra De Litt e De Miral eh ma sono giovani eh ma De Litt non conosce il campionato eh ma di qua e di là ragazzi se si voleva fare veramente una rivoluzione bisognava subito rischiare hai rischiato non comprando un cazzo di giocatore importante al centro campo perché ragazzi di giocatori importanti adesso ci arriviamo al centro campo non ne abbiamo dovevi rischiare anche in difesa e mettendo subito titolare eh un giocatore che comunque hai pagato 70 milioni 80 milioni ok boh per quanto riguarda il centro campo che poi ripeto il mercato eh lo giudicherò ufficialmente il 2 settembre dopo le 22 per quanto riguarda il mercato eh il centro campo ragazzi è inutile girarci intorno perché molti mi dicono ma Rabioti farà ricredere quello eh quell'altro insomma se Rabioti fosse stato veramente un fenomeno anche con mezza gamba avrebbe giocato la prima partita e quantomeno anche questa contro Napoli che sembra comunque favorito Matuidi al posto di Matuidi Matuidi ragazzi non è cross quindi eh un giocatore che tecnicamente non è valido non è bravo tecnicamente cioè è inutile girarci attorno eh un giocatore come appunto Matuidi non viene superato da Rabioti anche se non è in condizione quello che mi preoccupa è Emre Can perché se capisco Rabioti però Emre Can insomma io l'avrei anche lui non è in condizione però secondo me anche lui potrebbe essere l'Allan di turno per Sarri quindi non lo so vabbè però per quanto riguarda Rabioti che prende 7 milioni l'anno che è stato preso come centrocampista e molti di voi insomma l'avete fatto passare come top a centrocampo cosa che per me non è mai stato mai stato e mai sarà ok poi magari lo dimostrerà sul campo ma dubito fortemente insomma e se non è in condizione fisica comunque al posto di Matuidi tu devi giocare comunque perché se sei un fenomeno se sei forte se sei più forte di Matuidi se sei che per me più forte di Matuidi lo è però se sei così tanto più forte di Matuidi se sei un giocatore top a centrocampo tanto insomma che tutti dicono che potenzialmente è un crack e quant'altro ha 24 anni e tutte queste cose qua fisicamente non sei pronto però tecnicamente sei forte anche con mezza gamba ripeto giocherai e giocheresti al posto di Matuidi cosa che non avviene stessa cosa con Kedira Kedira ragazzi a centrocampo è inutile che ci torno sopra perché alla fine ripeto dirò queste cose lunedì però di fatto a centrocampo siamo deboli siamo deboli 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 non siamo neanche quest'anno tra le top d'Europa fine è inutile girarsi attorno Ramsey è forte però anche lui ha problemi fisici costanti ok il timore che sia un nuovo Kedira più tecnico però un nuovo Kedira c'è e poi appunto sto Rabiot è un'incognita comunque appunto non giudicherò non do il voto adesso però sapete benissimo come la penso e ripeto la formazione di oggi alla fine sarà quella che abbiamo letto molto probabilmente con Matuidi al posto di Rabiot ripeto un giocatore che non è in condizione fisica però è nettamente viene considerato nettamente più forte di Matuidi anche con mezza gamba gioca al posto di Matuidi perché ripeto Matuidi è Matuidi e non è un cross non è un Iniesta non è un Modric non è un giocatore forte a livello tecnico quindi per me anche se sei al 50% ma sei un giocatore forte 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 che sei stato preso perché appunto sei forte giochi al posto di Matuidi anche alla seconda giornata ed è ora di finirla con queste cose eh ma bisogna aspettare perché il nuovo deve ambientarsi in altri campionati ragazzi vengono presi i giocatori nuovi vengono sbattuti subito dall'inizio e si ambientano poi con il campo è vero che qui in Italia c'è un altro un altro tipo di pazienza cioè la pazienza non c'è quindi sbagliano una cosa vengono massacrati però sono professionisti avranno anche la testa per sopportare certe pressioni penso se no non sarebbero a quei livelli non giocherebbero a quei livelli ecco questo è il quanto ragazzi io detto questo vi auguro buon sabato a tutti per stasera adesso appunto aspettiamo i comunicati però per stasera la formazione dovrebbe essere appunto con io attenzione in difesa non mi stupirei qualora giocasse De Miral e non De Litte però vediamo perché insomma De Litte appunto è stato pagato 80 milioni praticamente comunque la formazione dovrebbe essere questa Cesni De Sciglio Bollucci De Litte Alexandro Chedira Pianis Matuidi Costa Higuain Ronaldo questa dovrebbe essere la formazione il centro campo ripeto anche in fase di transizione negativa e quindi in fase di ripiegamento non mi fa stare tranquillo perché Pianis è pigro che dire Matuidi sono lenti anche a ripiegare quindi fate voi ok buona giornata a tutti grazie a tutti